Sindaco, nei giorni scorsi la Guardia di Finanza ha visitato l'ufficio tecnico del comune di Terrasini alla ricerca di quali atti? Ha visitato, ha fatto una richiesta a documenti e gli sono stati consegnati i documenti richiesti relativamente al mercato del contadino. Hanno fatto una segnalazione per irregolarità su questo finanziamento del Gallo, in particolare su quello che definiscono il mostro di Terrasini, quindi la struttura precaria che è posta a copertura del mercato. Parliamo dell'esposto del Movimento 5 Stelle? Sì, l'esposto è quello, la politica si fa così in questo periodo per cui hanno fatto l'esposto, ma noi siamo stati sereni fin dall'inizio, abbiamo dichiarato che l'ufficio doveva lavorare, stiamo dichiarando che l'ufficio da quello che ci risulta, da quello che è stato relazionato ampiamente in Consiglio Comunale, ha dato le giustificazioni del suo comportamento e quindi riteniamo che le indagini della Procura non dovrebbero portare a scoprire chissà quali altarini o chissà quali nefandezze. Si tratta di un progetto che è andato ad arredare e sistemare una piazza che era degradata, per cui riteniamo che l'agente Terrasini non si lamenterà di questa operazione. Però l'operazione Verità non ci spaventa perché siamo tranquilli e perché riteniamo di dare credito a quelle giustificazioni che l'ufficio ha dato ampiamente nel corso di una seduta del Consiglio Comunale lunghissima, ma nell'arco della quale la relazione era suffragata anche dalla documentazione. Ecco, la documentazione che ha fornito l'ufficio è quella che è già stata prodotta dai consiglieri comunali nel corso di quella relazione che sostanzialmente giustifica il comportamento dell'ente. Io non mi aspetto grandi novità, credo che la Guardia di Finanza, nell'esercizio del suo mandato, ha preso i documenti e li trasmetterà al Pubblico Ministero. Personalmente io mi fido dell'azione della magistratura, per cui siamo sereni veramente. E i lavori a piazza di Ticonsiglio a che punto sono? I lavori sono stati collaudati, per cui il GAL ha effettato l'accesso, ha verificato che tutto rispondeva al progetto presentato, quindi siamo anche qui tranquilli. Abbiamo potuto rendicontare, gli uffici hanno rendicontato tutto quello che hanno speso. Ripeto, non posso che affidarmi degli uffici di quello che mi dicono e ho potuto notare che nel momento in cui mi spiegavano le cose, mi relazionavano sulle cose, erano sereni e quindi hanno trasmesso serenità all'amministrazione su questo punto. Non temiamo sorprese, in quel caso sarebbero veramente sorprese perché non le temiamo. E invece te mette delle ripercursioni sulla relazione che è arrivata al Comune di Terrasini da parte della Corte dei Conti? Anche lì, noi è vero che non siamo stati presenti all'Assemblea, all'adunanza della Corte dei Conti il primo di ottobre, perché il funzionario non stava bene, però avevamo inviato una relazione di cui non hanno tenuto conto. Riteniamo anche qui che la relazione possa dare delle chiarificazioni, dei chiarimenti, dell'elucidazione su quei punti, dei 10 punti che hanno evidenziato. A questo aggiungo che gli atti sono stati trasmessi internamente da parte nostra, al fine di predisporre gli atti per inviare una giustificazione del comportamento del Comune e degli atti che sono risultati dall'indagine, abbiamo mandato al Collegio dei Revisori di effettuare una verifica e i revisori hanno, quello che ho letto stamattina, in un verbale del 10 di novembre, quindi antecedente a quel putiferio che si è scatenato con questo terremoto che è presunto che è caduto sul Comune di Terrasini, hanno di molto minimizzato l'effetto detonante della notizia, perché in particolare si diceva che il Comune di Terrasini sforava il patto di stabilità per 8 mila euro. Dalla relazione del Revisore dei Conti c'è stato un errore di appostamento da parte dell'ufficio, per un errore di interpretazione di una norma nuova, hanno appostato delle somme in un capitolo anziché in un altro, però nel complesso del bilancio non si va nella posta negativa del patto di stabilità, quindi di fatto il patto di stabilità non viene violato. Quindi in riferimento all'alterazione del bilancio 2012 è relativo a questi 8 mila euro? No, alterazione è un'espressione forte, alterazione significa quasi falso in bilancio, dico questo non credo che agli uffici si possa imputare una cosa del genere. È chiaro che la trasformazione delle norme da parte del legislatore che annualmente cambia le modalità di composizione del bilancio comunale, dalle disposizioni sulla redazione per e proprio del bilancio annualmente vengono modificate. In questo caso in particolare c'era una diversa possibilità di interpretare due disposizioni, la disposizione della prescrittiva del Ministero con il decreto Salve Italia, e quindi l'ufficio si è fondato sul decreto Salve Italia anziché sulla prescrizione del MEF che probabilmente non conosceva, però questo non vuol dire falso in bilancio assolutamente, significa un erroneo appostamento in bilancio in buona fede, ma sicuramente che non va a violare il patto di stabilità e questo penso lo possiamo dimostrare alla Corte dei Conti.